Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla statale 3 bis Tiberina, strada chiusa al traffico per un incidente avvenuto all'incrocio di Sansepolcro Nord al chilometro 138 più 200 e chiuso lo svincolo di Canili in entrambe le direzioni fino al primo giugno. Sulla Fibili fare attenzione per un veicolo fermo tra l'allacciamento A1 Firenze-Scandicci e Firenze-Viadotto dell'Indiano in direzione Firenze. In A12 controllo della velocità tra Cole Salvetti e la barriera di Rosignano-Marittimo in direzione Rosignano. Su d'accordo Siena-Firenze in direzione Siena ci sono scambi di carreggiata per lavori tra Firenze-Improneta e San Cascano Nord e tra Monte Rigioni e Siena. Sulla statale 1 Aurelia, senso unico alternato per lavori tra Scarlino Scalo e Stagno. Buon versi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!